Il power point, facendo un ragionamento anche rispetto a quello che diceva Junkeri, un po' una battuta, nel senso che mi ha impressionato tra le varie cose che ha detto due cose rispetto al contesto giapponese, che non c'entra con il nucleare però, prima la velocità della ricostruzione che non è propriamente italiano, il secondo il controllo dei media che invece mi rispondono già molto di più da questo punto di vista, perché la questione del controllo dei media è stato un aspetto importante per quanto riguarda la parte della gestione del consenso sull'energia nucleare e io credo che adesso l'intervento che Angelo Baracca farà in un certo senso spiegherà, perché c'è tanto investimento nel cercare di governare l'opinione pubblica e soprattutto l'immaginario collettivo rispetto alla questione nucleare, troppe volte non ci siamo resi conto, non ci hanno raccontato come esattamente stanno le cose, quali sono le interconnessioni tra molti militari e civile, ma è un po' la storia che ce lo racconta, quindi abbiamo aperto questa sera l'attacco di Greenpeace e l'attacco di Greenpeace ci ha lasciato una persona, una buona trentina d'anni fa in Nuova Zelanda con una nave che è affondata, erano i servizi segreti francesi, poi alla fine si scoprì che facevano andare a picco con la nave e per gli stessi motivi per cui tanti e tanti anni dopo, circa una quindicina d'anni fa, decisero di sostanzialmente radere al suolo l'attacco di Mururoa, come vi ricorderete, quindi con tutto quello che poi aveva determinato come mobilitazione della società civile internazionale contro nucleare. È la questione, in questo caso della Francia, quindi non stiamo a parlare nella scena dell'India e del Giappone, è la questione della force de frappe, cioè la Francia è potenza, ma è potenza militare perché ha nucleare e ha nucleare militare perché ha una filiera che funziona benissimo, che parte con nucleare civile. Allora, questo è uno degli aspetti, direi, importanti da poter sottolineare, non fosse altro perché noi qua a Pisa conviviamo, mi verrebbe da dire, con una tradizione di questo tipo, avendo Camp Darby proprio qui vicino, e che nessuno di noi sa esattamente che cosa c'è all'interno di quei silos sottoterra. Questo è un altro elemento che per Pisa potrebbe essere sostanziale da poter ragionare e forse, come dire, dà ancora più significato a una serata come questa, a che fare del nucleare e che cerca di interconnetterlo con il nucleare militare e con la strategia militare. Allora, io continuo però, certo, certo, ma l'ho chiesto. Un aspetto, a questo punto aggiungo, che avrei aggiunto volentieri prima dell'intervento di Maurizio, ma che anticipo, perché questo è l'altro grande aspetto della disinformazione legata al nucleare. Nei tanti contesti internazionali e nei tanti contesti internazionali dove si parla di lotta al cambiamento climatico o di nuovo modello di sviluppo, se voi volete, quindi io parlo di tutto l'ambito Nazioni Unite, pensate alle conferenze delle parti sul cambiamento climatico, troppe volte da parte di diversi paesi l'energia nucleare è stata identificata come energia pulita o come energia alternativa. La logica è che l'energia nucleare non produce CO2, al di là del fatto che produce scorie, c'è un'ulteriore controinformazione, se voi volete, un'ulteriore manipolazione su questo, che è la questione per cui non produce CO2 nel momento in cui è in attività. Il problema è che c'è tutta una fase prima e c'è tutta una fase dopo, che invece la CO2 la produce. E se noi dovessimo fare una sorta di assessment della vita, di life cycle assessment, della vita, diciamo, di una centrale nucleare, da quando viene raccolto l'uranio, da quanto viene estratto l'uranio, quando viene processato, quando viene utilizzato e da quando vengono spostate le scorie, quando viene costruita la centrale, noi ci renderemo conto invece di quanto CO2 emette e quanto poco combatta il cambiamento climatico una tecnologia come questa. Io a questo punto, siamo arrivati, lascerei la parola ad Angelo Veracca, ripresentandolo come docente di fisica dell'Università di Firenze, ma anche uno dei coautori, forse se ne parlerà meglio Angelo, dell'annuario su Arme e disarmo, che è stato recentemente presentato a Pisa e di cui lui è stato uno dei principali autori, nel senso che ha fatto, io credo, il capitolo più corposo, che era proprio quello legato al nucleare e legato alla questione militare. Quindi io passo subito la parola ad Angelo, ringraziandolo per essere. Io vi ringrazio di avermi invitato e anche di avermi invitato questo tema, perché dopo la saga del referendum in cui per mese ho parlato di nucleare civile, ritorno un po' anche a una vecchia passione mia di occuparmi anche dei messi per nucleare civile e nucleare militari. Ci parla molto poco di nucleare militare, peraltro ci si dimentica anche che abbiamo una novantina di testate nucleari in Italia, ad Aviano e a Ghevi, quelle in qualche modo ufficiali, tra virgolette, a parte i dubbi su altre cose. Ecco, e ci si dimentica anche del rischio che le bombe nucleari ci sono, salvo parlarne in qualche momento, come due anni fa circa, quando ci fu l'accordo, un nuovo accordo tra Russia e gli Stati Uniti, ne parlerò successivamente. Io voglio, partendo da una, come dire, una brevissima considerazione storica, voglio arrivare un po' all'attualità per farvi un po' il quadro della situazione, perché vorrei in qualche modo convincervi, non di una cosa bella, ma è che è opportuno preoccuparsi anche del nucleare militare. Ma adesso appunto cerco di andare un po' veloce, perché altrimenti... Allora, il nucleare è nato e si è sviluppato come tecnologia militare, cioè non aveva nulla a che fare con programmi civile inizialmente. nel 1942, Fermi costruì la prima pila, l'ho messo a fare virgolette, perché in realtà non produceva energia, ma era fatta per produrre il plutonio. E nei decenni successivi, più o meno, si sono costruiti molti altri reattori, tutti militari, che con due scopi. I primi primi erano per produrre il plutonio e sono stati la base della realizzazione dei grandi arsenali nucleari durante la guerra fredda. Fu i primi programmi di propulsione navale, i sommergibili nucleari, e nei sommergibili nucleari si sperimentarono i modelli di reattori che poi sono diventati i modelli fondamentali di reattori civili. Quindi anche i filieri di reattori civili, in realtà i Tvr, Dvr, 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 General Repri e anche quelli russi, sono nati tutti da prototipi, da filiere di reattori militari, quindi hanno anche tutti i limiti. Durante la guerra fredda vennero realizzati, poi lo farò vedere, enormi arsenali nucleari, folli di arsenali nucleari. E bisogna ricordare anche che sono stati fatti da tutta l'era nucleare, nei 60 anni circa, poco più di aere nucleare, più di 2.000 test nucleari, esplosioni di bombe, di cui più di 400 sono avvenuti in atmosfera, con tutto l'inquinamento che hanno prodotto, dopo un po' ne parlerò. Solo nel 1953 il Presidente della Gennavere lanciò in un discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, degli atomi per la pace. E dopo il 1955 sono partiti i programmi nucleari civili del mondo, quindi vedete che l'origine è abbastanza chiara, no? Perché non scorre? Quindi pigio questo a sinistra. Questo qui descrive l'andamento degli arsenali nucleari dal 1945 fino al 2005, dopo vi parlerò della... vedete che in blu ci sono le arsenali nucleari, spero che vediate i numeri a sinistra, in blu l'arsenale nucleare americano, in rosso quello sovietico e poi il russo dopo il 1991 e in grigio e in basso c'è la somma di tutti gli altri arsenali nucleari, di tutti gli altri paesi che ci sono dotati di armamenti nucleari, che non danno una somma trascurabile, perché se vedete quel grigio nel 2005 si aggira sulle mille testate nucleari, che non sono proprio uno scherzo, ecco, quindi quando, dopo discuterò brevemente l'accordo che è stato fatto tra Stati Uniti e Russia, ci sono altre mille testate nucleari circa, un poco meno, nel mondo di cui quell'accordo non tratta, ma esistono e sono e comportano i loro pericoli. Vi faccio notare, se guardate più o meno a metà del diagramma, il massimo dell'arsenale americano non coincide col massimo dell'arsenale sovietico, ma se fate la somma del massimo vedete che ci si aggira sulle 70 mila testate, che era una vera follia. Non a caso la strategia che regolava in qualche modo che stava dietro le bombe nucleari, si chiamava MED, Mutual Assured Destruction, distruzione mutuo assicurata, ma l'acronimo MED sul dizionario inglese vuol dire pazzo, quindi proprio la strategia stessa rifletteva questa follia che stava dietro. Chi ha guidato il gioco, lo sviluppo, noi pensiamo al nucleare civile? Pensate che in questi 60 anni sono stati costruiti circa 600, un po' meno, 600 grossomodo reattori di potenza, più un numero simile di reattori di ricerca, che sono per reattori molto piccoli, a fronte di un numero molto maggiore di reattori militari, i reattori nucleari militari sono di più, ci sono sommergibili che funzionano con tre reattori nucleari, poi i sommergibili si rinnovano, cambiano, e quindi un numero maggiore di reattori militari, circa 130 mila testate, con tutto il sistema degli elementi nucleari, il problema è il costo minore, sommergibili decine, centinaia di sommergibili, credo ormai con quelli dismessi, bombardieri, migliaia di bombardieri probabilmente, missi in una quantità difficile da contare, forse satelliti, sistemi di controllo, satelliti di allarme, tutta questa parte che sta sotto, quella di affronte, è ovvio che comporta dei costi molto superiori al nucleare civile, quindi chi ha controllato tutto questo sviluppo è il militare, io sono convinto che senza il militare il nucleare civile non ci sarebbe, non si reggerebbe, non starebbe in piedi, dopo un po' ne parlerò, ma anche il nucleare civile comporta una militarizzazione nel controllo del territorio e dei processi che stanno dietro, i processi di arricchimento, le tecnologie, il laboratorio, ed è il primo gradino comunque necessario per chi voglia farsi la bomba, tutti i paesi che si sono fatti la bomba sono passati attraverso la costruzione di centrali nucleari, perché è un passo necessario, ci vuole l'uranio, bisogna arricchirlo, lo si arricchisce anche per le centrali nucleari, ci vuole il plutonio, il plutonio che ha solo interesse militare, è un prodotto delle aderazioni a catena, si forma dentro i reattori, sono state prodotte nel mondo in questi 65 anni circa 1500, mi è venuto 150, ma fra 1500 e 1600 tonnellate di plutonio e queste 1500 tonnellate hanno prevalentemente un'origine civile, perché ormai di plutonio militare ce n'è tanto, che quasi tutti i paesi hanno cessato di produrre, tranne il Pakistan, l'India e qualche altro paese che ancora fa prima, ma gli Stati Uniti e la Russia ne hanno sovrabbondanza, la Francia e l'Italia non hanno più bisogno di plutonio, malgrado questo non si è mai arrivati a un trattato internazionale di limitazione della produzione di materiali fissili militari, che la dice lunga su quali siano gli interessi che ci stanno dietro. Io vi richiamo anche l'attenzione su quello che ci ha dato l'ebranulare, facciamo un bilancio per capire cosa ci ha dato, ci ha dato un inquinamento radioattivo dell'atmosfera di cui nessuno parla, ma che è spaventoso, negli Stati Uniti si trova ancora lo stronzio 90 nei denti dei bambini che viene ancora dai testi dell'atmosfera, credo che molti di voi sappiano che la truppa cinematografica di John Wayne che faceva i film western è stata decimata, sono morti quasi tutti di tumore, giravano i film western nel deserto vicino al poligono dove si facevano i test nucleari, guarda caro sono morti tutti quanti di tumore, quindi questo inquinamento dura per decenni. Rischi di ulteriori incidenti, ne aveva parlato anche l'amico di Greenpeace, faccio una piccola parentesi, ce l'ho detto prima che non è una critica ma è una postilla a quello che lui diceva, lui diceva che in 32 anni, dal 79 oggi sono avvenuti 3 incidenti, io lo cattolico erano accesi e per fortuna gli altri 3 erano spetti, se non sarebbero stati 6 incidenti probabilmente, e 2 alle piscine del combustibile irraggiato non era mai avvenuto nella storia, quindi se in 32 anni gli incidenti sono stati 7 e non 3, fate subito il conto che la frequenza, stando a rigore, come vengono impostati i calcoli, sono assurdi, però a rigore vuole dire che ogni 3 o 4 anni ci aspettiamo un incidente e siccome abbiamo 58 reattori vicini ai nostri confini in Francia, stiamo con le orecchie dritte perché il prossimo incidente potrebbe finire in Francia, quindi da danni alla salute da tutto questo e il picco dei danni alla salute deve ancora venire probabilmente perché sia da Cernobi che da Fukushima soprattutto i danni alla salute si vedranno in futuro. Abbiamo un'eredità di circa 2000 reattori nucleari da smantellare, ho fatto il calcolo sui circa 500-600 civili, quelli militari, qualcuno di voi forse ha visto qualche servizio negli anni passati su quello stato in cui si trovano i sommergibili sovietici nel mare di Barents in uno stato spaventoso, fermi vecchi e arruginiti ma hanno i reattori nucleari ancora dentro, quindi questo lo dice lunga qual è l'eredità che lascia il nucleare, ma anche quelli civili appunto, ci sono circa 130 reattori spenti ma lo smantellamento deve ancora essere fatto, quindi è un'opera gigantesca con costi colossali, ulteriori scorie radioattive che verranno prodotte e che devono essere controllate, migliaia di tonnellate di residui radioattivi ineliminabili perché durano per migliaia di anni con tutti i rischi che comporta e non esiste una soluzione per i residui, si parla di scorie, ma per i residui c'è anche il plutonio che non è affatto una scoria perché è un materiale di interesse militare, quindi centinaia di tonnellate di materiali fissili, munizioni uranio e depleto, tutto quello che hanno portato, ormai mi pare che siano sui 250 militari italiani morti di tumore che operavano in Bosnia dove sono state utilizzate le armi di orario di depleto, anche di questo non si parla ma è un ecatombo, 250 persone morte perché operavano, sto andando un po' lento ma qui vi faccio vedere a volo d'uccello qualche dato, perché come dice l'inquinamento, questo è il cripto radioattivo, l'andamento negli anni viene dai test nucleari nell'atmosfera dal 1960 al 1990, guardate come è aumentato, questo è il trizio emesso dalle centrali nucleari canadesi, vedete il picco vicino alle centrali, quindi non è vero che poi diminuisce con la distanza, non è vero che le centrali nucleari non hanno emissioni radioattive per carità, le hanno e come potete farvi vedere degli altri dati, ma vado un po' con l'uccello, questo è quello che è accaduto con la nube di cerco, uno delle tante simulazioni fatte, vedete che la nube è andata in tutto il mondo, quindi gli incidenti nucleari non rimangono limitati, gli amici di Greenpeace lo dicevano chiaramente, questo ve lo faccio vedere perché è spaventoso, questo è come diminuisce col tempo la reattività del combustibile irraggiato, quello che era a decontaminarsi nelle piscine dei reattori di Fukushima che sono state danneggiate, ma tutto il combustibile irraggiato nel mondo, perché nessun paese ha realizzato un deposito definitivo, gli Stati Uniti avevano il progetto di Yucca Mountain, ci hanno speso circa 10 mila dollari, adesso ormai è chiuso, non se ne fa nulla perché si è visto che non dava le garanzie sufficienti, tutto il combustibile irraggiato è ancora nelle piscine del combustibile, nei pressi dei fissili reattori, ma non protetto come protetto il reattore dal vessel d'acciaio, gli Stati Uniti ne hanno circa 70 mila tonnellate in 60-70 localizzazioni e dopo Fukushima c'è una notevole preoccupazione che possono accadere ancora degli incidenti alle piscine del combustibile. Guardate, forse non vedete bene la scala in basso, ma l'estremo della scala sono 10 milioni di anni e guardate, in 10 milioni di anni quei segni gialli sono le tappe della storia dell'umanità, la scala logaritmica, se la scala della logaritmica venisse portata in scala normale, quella orizzontale sarebbe lungo 250 km, dopo 10 milioni di anni c'è stata una notevole diminuzione sicuramente della radioattività del combustibile irraggiato, anche la scala verticale logaritmica ogni tacca è un fattore 10, quindi vedete un fattore di qualcosa come 10 o 100 mila, però guardate quanto è ancora superiore alla dose letale, quindi del combustibile irraggiato non ci se ne libera per decine di migliaia di anni, un'eredità che lasciamo ai nostri figli, questo è un bel risultato di quelli che si gloriano delle meraviglie dell'era nucleare. Venendo adesso agli arsenali nucleari attuali, voi vi ricorderete, spero, l'accordo, il nuovo START, START vuol dire, è un trattato sulle armi nucleari strategiche, Strategic Arms Reduction Treaty, trattato sulla riduzione delle armi nucleari strategiche, perché ci sono anche quelle tattiche che sono un numero notevole, non sono controllate da nessun trattato e quindi non si sa neanche esattamente quanto è sino. Questo trattato ha stabilito circa due anni fa, nel 8-10 di aprile del 2010, che per il 2017, quindi di là da venire ancora, gli arsenali russo e americano dovranno ridurre il numero di testate strategiche, schierate, operative, adesso dopo faccio una, vedrete che sotto c'è un trucco, a 1.550, già questo numero fa un po' ridere, non hanno fatto neanche lo sforzo di elevare 1.500, pare che le 1.50 siano decisive, non è così ovviamente, ma è che è tutto un tire molla, per cui in realtà, pensate che prima c'era un trattato, che si chiamava SORT, che prevedeva fra 1.700 e 2.230 e 2.012, quindi questo grande progresso per il 2017, è vero che gli Stati Uniti pare che siano già sotto questo limite e la Russia si sta avvicinando, il che vuol dire che potevano fare un accordo molto minore di questo e quindi fa riflettere del perché invece abbiano mantenuto. Sotto ci sono dei trucchi, perché ci sono dei falsi conteggi, un bombardiere viene contato con una testata, quindi può portare più testate e c'è la possibilità di ricaricare delle testate sui vettori perché ci sono delle testate in riserva. Se guardate i numeri, purtroppo quello a destra non si vede bene perché non siamo riusciti a chiudere e fare questa cosa, ma è circa 20.000. Vedete, le testate strategico-operative attuali, vedete la Russia, questi sono dati del 2011, non ho quindi del giugno 2011, non ho trovato in questo momento, non ho avuto tempo, dati recenti. Vedete, per la Russia siamo circa 2004, gli Stati Uniti a 1950, ma le hanno ulteriormente ridotte. Poi sotto ci sono gli altri stati nucleari in cui il numero di stati sono quelli circa quasi 1.000 che vi dicevano. Ma vedete, ci sono testate di riserva, l'arsenale militare effettivo, vedete, cioè quelle che sono messe in riserva, sono numeri molto grandi, per cui l'inventario totale per la Russia da 2.400 diventa 11.000, per gli Stati Uniti da circa 2.000 diventa 8.500 e invece meno delle 5.000 che dovrebbero essere, sono contate operative nel mondo, siamo un numero 5 volte maggiore perché siamo attorno a 20.000, credo che adesso siamo attorno a 19.500. Ci sono nel mondo ancora circa 20.000 testate nucleari intate, dalle 70.000 che erano c'è stata una notevole riduzione, però non è stato un disarmo nucleare, parlare del disarmo nucleare è una presa in giro. Abbiamo ancora tutte queste testate perché appunto oltre a quelle operative ci sono quelle non schierate, di risposta, di riserva, quelle inattive ritirate intate, quelle rimosse in attesa di essere smantellate, tutte testate che non sono utilizzabili immediatamente. Quelle schierate operative sono ancora pronte al lancio su allarme come ai tempi della guerra fredda, come se ci fosse bisogno di avere una risposta nucleare e questo è un grosso rischio perché c'erano specialisti dei problemi del nucleare che ritenevano, io concordo molto, la prima misura da prendere sarebbe stata quella di deallertare le testate, cioè averle smontate in maniera che invece di essere pronte a partire su allarme e i rischi di guerra nucleare per errore sono stati moltissimi nella storia dei nucleari, quindi se ci fossero smontate le testate, ci volessero non minuti ma giorni o settimane o mesi per dimontarle, il rischio di una guerra nucleare verrebbe allontanato molto perché ci sarebbe tutto il tempo per negoziati, per trattative, quindi mi sembra evidente che militari e politici non vogliono rinforciare le armi nucleari, questo tra l'altro alimenta le spedizioni nucleari di altri stati perché finché ce l'hanno le potenze principali altri stati ce lo vogliono fare, la proliferazione nucleare è una realtà allarmante, oggigiorno costruire le armi nucleari, vi dico che non le ho mai costruite, non sono un tecnico ma che è abbastanza semplice, lo dimostra la Corea del Nord che non è una potenza industriale la potenza tecnologica, una potenza scientifica che nel 2003 quando gli Stati Uniti ritirarono un accordo che Carter aveva fatto di fornitura di energia e di alimenti decisero di costruire la bomba nucleare, in tre anni, nel 2006 hanno fatto il primo test, nel 2009 il secondo test vuol dire che avevano un piccolo reattore, quello che hanno riattivato, hanno ritrattato il combustibile, trattato il plutonio e hanno fatto i test nucleari che sembra non siano stati dei grandi successi, però conta poco perché quando uno va davanti a un paese che dice di avere le bombe nucleari, poi che funzionino bene o male non è il problema principale, uno ci sta attento, è abbastanza significativo che quando è preso il primo testo nel 2006 un giornale israeliano commentò più o meno con questi termini, ora che la Corea del Nord ha l'arma nucleare non può più essere attaccata, quindi il problema non è che la Corea del Nord attacchi qualcuno, così come l'Iran, perché dico che ha una foglia di fico, a parte che tutto questo, io non voglio difendere l'Iran, soprattutto chi lo governa nelle scelte dell'Iran, però fare tutto il problema del nucleare oggi giorno, focalizzarlo sull'Iran, che la bomba non ce l'ha, quando vicino c'è l'Israele che ne ha 80, 100, 150, non si sa neppure, il problema qual è? È l'Iran o è l'Israele? Credo che la risposta venga naturale a tutti, basta dirle le cose, ma io vorrei fare anche questo commento, se l'Iran si fa la bomba, il problema è che non può essere attaccata, non tanto che può attaccare, perché se l'Iran poi provasse, una volta che ha la bomba, attaccare Israele o chiunque, verrebbe cancellata dalla carta geografica, dalla reazione del paese che ha, Israele a questo punto ha 5 sommergibili, non a propulsione nucleare, ma a visi molto moderni, che tutti dicono e sanno, anche se non l'hanno mai ammesso, che sono stati muniti di missili a testata nucleare, questi sono indistruttibili, quindi se Israele eminisse anche il territorio distrutto, questi missili e questi sommergibili possono fare una reazione, reagire con un attacco nucleare devastante su qualunque paese. Visto che parlavamo del Giappone, il Giappone ha accumulato decine di tonnellate di plutonio, qualche anno fa erano 40-45, ha degli impianti di ritrattamento a quello di Tokaimura e di Rokasomura, adesso pare che quello di Rokasomura sia stato messo in discussione, ma perché si costruisce degli impianti di ritrattamento, visto che il plutonio ha solo un interesse militare, perché ritratta il combustibile, ha sicuramente le capacità tecniche e scientifiche di fabbricare la bomba immediatamente, si parla di proliferazione latente, lo stesso di Rokasomura per la Germania, sono paesi che da un giorno all'altro se decidono non in anni come sta facendo l'Iran, possono costruirsi la bomba, il trattato di non proliferazione è stato fatto in modo che le grandi potenze sono mantenute aperte la strada per recedere un giorno che lo ritengo come ha fatto la Corea, la Corea non ha violato il trattato di non proliferazione, è uscita legittimamente con tre mesi di imprevisto, lo può fare qualunque paese, poi ci ha messo tre anni a farsi la bomba, se Giappone o la Germania trannunciassero in tre mesi di uscire dal trattato di non proliferazione, dopo tre mesi verrebbero le bombe belle pronte, tra l'altro la Germania ha anche collaborato a costruire le bombe nucleari del Sudafrica, quindi vuol dire che le ha fatte, se sapeva fare le sa fare anche adesso, quindi capite che il problema della proliferazione è gravissimo. Il rischio di guerra nucleare purtroppo continua ad essere molto grave, il Balleting of the Atomic Science che tiene da anni, da decenni, questo atomic clock che misura, vedete la lancetta, quanti minuti mancano alla mezzanotte che sarebbe il momento dell'olocausto nucleare, il 10 gennaio scorso ha partato avanti di un minuto verso la mezzanotte, la atomic clock, due anni fa l'aveva riportato indietro di un minuto, perché ha constatato che non c'è la volontà di disarmo e che i problemi sono. Dietro a questo ci sono anche altre cose molto gravi, perché io credo che il pericolo di guerra e anche della guerra nucleare si è accentuato dal fatto, dallo schieramento delle difese antimissili, che non sono uno scudo antimissile come quello che si voleva costruire in Repubblica Ceca e in Polonia qualche anno fa, ma è un sistema estremamente complesso e spaventoso di un sistema di difese di tutti i tipi, qui c'è un'altra rappresentazione, ora non metterlo in dettaglio, difese di teatro, tattiche, strategiche in tutte le fasi di volo del missile, che fanno sì che il paese che se ne doti è presse, queste difese è dubbio che siano effettive al 100%, che possono veramente intercettare tutti i missili di un paese attaccante, però chi è che ci prova se c'è questo rischio che attaccando un paese, quello possa distruggere tutti i missili dell'attacco e possa reagire cancellando dalla carta geografica il paese che ha attaccato. Allora con un sistema di questo tipo sicuramente sono necessarie molto meno testate nucleari al paese che se ne doti, ecco perché la Russia ha una grande paura e forse è il motivo per cui nei negoziati non sono andati sotto le 1.550 testate, perché la Russia ha bisogno di mantenere di più se gli Stati Uniti si dotano di queste difese, come stanno facendo. Se si ritorna brevemente al nucleare civile, già verrà stato detto prima dei lucari, il nucleare civile non è una tecnologia che stia avanzando, questo è l'andamento dell'energia nucleare annuale che è stata prodotta nel corso degli anni, dal 1971 fino in questo caso al 2009, vedete che c'è una flessione, è stata una, dopo l'inizio, ci sono tanti, se vedete le date poi con Cilio, con Cilio, con Cilio, c'è stata appunto una flessione e una diminuzione, una diminuzione che sicuramente non ci sono i dati del 2011 ancora, non li abbiamo trovati in rete, ma se pensate che ci sono una dei 54 reattori, 52 sono chiusi, nel mondo erano circa 540 reattori funzionanti, se un decimo sono chiusi, è presumibile che nel 2011 e poi ancora più nel 2012 la energia nucleare prodotta sia ancora meno, i reattori in costruzione nel mondo sono pochi e quindi non è vero che siano tanti, quindi questa tecnologia nucleare è una tecnologia obsoleta, una tecnologia che ha parlato che fuori mercato come costi, io dico qualcosa sui costi, si regge soltanto sul fatto che i costi sono esternalizzati, nel senso che ci sono negli Stati Uniti garanzie statali sui prestiti, chi è che emette miliardi per costruire un reattore che poi invece di essere costruito in 4 anni ne passano 8, 9, 10 come viene per il reattore che è in costruzione in Finlandia, immobilizzare miliardi per un investitore è un rischio enorme, se raddoppia il tempo in cui l'investimento comincia a rendere, allora negli Stati Uniti il governo federale ha stanziato, Bush stanziò 19.500 miliardi di dollari che non è un'inezia per garantire l'investitore, ma credo questo gli investitori non ci sono, perché negli Stati Uniti non è ripartita dopo 30 anni la costruzione di centrali nucleari, ce n'è un paio in costruzioni, non è un numero enorme, quindi da 30 anni gli Stati Uniti per 30 anni dopo Trima Elanda non hanno ordinato nuove centrali e adesso ce n'è una o due perché poi i numeri sono molto, incentivi statali in tutti i paesi, limitazioni delle responsabilità per le assicurazioni, già lo diceva Iucari, chi paga l'incidente nucleare in Giappone, non si sa neanche quanto saranno i danni, si è parlato di 100 miliardi, 300 miliardi, addirittura di 1000 miliardi, nessuno saprà fare i conti, ma non è certo la TEPCO che paga e sarà lo Stato, quindi i contribuenti, di le stesse persone che hanno subito gli incidenti, si rimborseranno da soli praticamente perché non c'è nessuno che paghi, chi fa i depositi e chi fa il trattamento dei rifiuti radioattivi non sono le industrie private, Iucca Mountain era un progetto federale, non delle industrie private statunitense, tutti i costi scaricati sulla collettività e come già era stato osservato prima ci sono i costi del nucleare civile occultati dietro il settore militare, in Francia è già stato detto quanti costi del nucleare civile saranno occultati dietro i costi dei progetti militari, i progetti militari sono molto opachi, non sono molto trasparenti, ma c'è tutti i processi di arricchimento, di gestione delle scorie, laboratorio, la formazione dei tecnici, tutti i costi che possono essere benissimo occultati dietro il settore militare, quindi in bolletta l'utente francese paga l'elettricità molto meno di noi, però secondo me ha un altro sovrappiù nascosto che paga nelle tasse che vanno nelle spese militari, quelle per la force de frappe, in cui sono scaricati dei costi della bolletta elettrica, quindi io credo che l'utente francese paghi l'elettricità più di noi se si potessero fare i capoli, nessuno è in grado di farlo, ecco questo ho finito, vi ricordavo.